e ciao a tutti ragazzi sono l'orex mecca e benvenuti in questo nuovissimo video su youtube questo video durerà poco perchè voglio reagire insieme a voi dei personaggi che potrebbero aggiungere su legends allora non male super saian god super saian evolution vegeta ci sta la grandissima io gli darei una legends limited perchè allora l'ultimate potrebbe essere il sacrificio però che l'ha fatto in modo diverso contro topo perciò ci darei un sacrificio e invece come attacco normale un lampo finale molto più lungo e più forte allora goku gt sparking legends limited allora la sua è l'ultimate probabilmente sarà una super sfera genkidama quella che ha fatto a omega sharon super potente che può distruggere cioè che praticamente si vede proprio l'energia del tutto il pianeta che gli va sulla sua sfera e quindi esplode quindi la lancia e disintegra l'avversario anche se mi ricordo un po' l'ultimate di goku terzo però è un po' la stessa cosa di vegeta allora fusion samasu versione merged non so perchè non l'hanno aggiunto ma non c'è da dare la legends limited la sua normale allora la sua il suo attacco la special move potrebbe essere questo allora che da un super pugno che but che toglie è una marea di danno che butta lontanissimo gli avversari e la ultimate se ce la dobbiamo dare possiamo potremmo farci ganciare una furia divina della purificazione però non come quella special move di quello normale ma molto più grossa eh vabbè tutti lo vogliono shallot super cyan blue non vi ho detto una cosa che pochi mesi fa hanno saputo che stanno lavorando a una schermata di shallot super cyan blue quindi molto probabilmente ci sarà goku super saiyan god super saiyan goku e vegeta assist super saiyan god super saiyan bello bello ci sta la grande dovrebbero aggiungere dei personaggi così oltre trunks e mei eh si scusa ci sta vegeta perchè non aggiungere anche goku e vegeta goku sub ma lui non ci darei ultimate e vabbè gogeta super saiyan 4 certo è un'ipotesi che lo aggiungono legends limited io non so le sue mosse so solo che potrebbe fare una super camion mea come special move ma l'ultimate vediamo un poco poi oh 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 ah no questo ci darei legends limited no al primo perchè al primo non stava scritto poi tanto ci faccio solo l'ultimate che fa questa esplosione però non ci darei la leggendaria finish come l'ha fatta con toma cingu ok allora anzi no quel vegeta ce la do però che dura molto di meno la l'ultimate secondo me ci sta voi lasciate un bel mi piace se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale ok guardate 50 iscritti questo video è stato molto famoso ti metto forte nella corretà ok questo è tutto il canale quello della variglia mi è piaciuto un tanto allora ci si becca ciao ciao ciao